Ieri nella nottata sono entrati dei ladri che hanno sfondato la tenda e hanno rubato delle bibite non potendo entrare nell'esercizio perché c'era la serranda. È praticamente da ormai metà dicembre che tutti hanno subito uno barra due furti e noi siamo stati gli ultimi della fila, spero, quantomeno per qualcun altro che non abbia la stessa sorte, però è successo a tutti ormai. Strammatizza così Letizia Pinto, titolare del Seed Food, l'ultimo esercizio commerciale del centro cittadino di Pescara, cronologicamente parlando, ad aver subito un furto per mano di balordi e disperati. Precedentemente era toccato al bar Excelsior, non nuovo a episodi di questo genere, come denuncia il titolare Carlo Miccoli, presidente di FIPE Pescara, la federazione dei pubblici esercizi. Sono due mesi che subiamo furti a rotta di collo perché sono venuti due volte da noi, ieri c'è stato un altro furto qui al negozio qui a fianco a noi, perché siamo in balia dei disperati che solo per fare quel bottino di 30-40 euro che trovano di spiccio nei nostri locali, rompono le tende, fanno un sacco di danni, più che altro. Questo è il discorso. Noi abbiamo denunciato questa cosa per avere più attenzione, abbiamo chiesto anche l'incontro con il questore per vedere come organizzare un po' più di sorveglianza, almeno in questo periodo che c'è il cantiere qui, abbiamo detto anche a questi del cantiere che avremmo bisogno di un Vigilandes la sera che ci sorvegliasse un po' di più le nostre attività, anche perché la polizia non è che può arrivare a tutto qui con tutte le ristrettezze che ci sono della viabilità, quindi anche loro sono un po' in difficoltà. Lei diceva non è tanto quello che rubano, quanto i danni che fanno? Certo, perché quando ti tagliano una tenda le assicurazioni una volta pagano, poi non ti pagano più, quindi sono soldi che dobbiamo pagare noi per questi danni. Intanto dal Comune il Sindaco Masci annuncia che il problema sarà nuovamente affrontato nel corso del prossimo tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura e ribadisce che entro maggio il cantiere sarà chiuso. Con il Sindaco ci avete parlato? Sì, ieri si è stato presente anche lui quando abbiamo verificato il fatto, giustamente lui ci ha promesso che parlerà con le autorità competenti per garantirci maggiore sicurezza. Voi che danno avete riscontrato, l'avete quantificato? Ancora no al 100% perché devono venire i tecnici, però è una tenda di plastica antisfondamento che parliamo di euro, un migliaio di euro almeno sicuramente, oltre che a quello che hanno rubato che è un minimo ovviamente.